In questo tutorial vediamo come poter trisecare un angolo facendo ricorso alla trisettrice di Ippia. Fissiamo l'attenzione sull'angolo DAB. Lo scopo è andare a determinare la terza parte di questo angolo. Per far questo faremo ricorso all'uso della trisettrice di Ippia. È questa curva in verde descritta dal punto P. Tale curva si ottiene come intersezione di due segmenti congruenti tra di loro AB e B'C'. AB ruota in verso orario con velocità costante, mentre B'C' trasla verso il basso con velocità costante. Vediamo ora come poter andare a determinare la terza parte di questo angolo. Come prima cosa determino la perpendicolare PK relativa alla base AD. Di questo segmento PK ne voglio determinare la sua terza parte. Ricordo che ho realizzato un video apposito su come poter dividere un segmento in tre parti congruenti. Il link lo trovate nei commenti. Vediamo ora come poter determinare la terza parte di PK. Per far questo traccio la circonferenza di centro P e il raggio PK. Traccio poi la circonferenza di centro K e sempre raggio PK e indico con O e N i loro punti di intersezione. Traccio poi la circonferenza di centro N e sempre raggio PK. Vado ora a disegnare il diametro PR relativo alla circonferenza di centro in N e traccio ora il diametro KS relativo alla circonferenza di centro in N. Unisco ora O con S e O con R. Indico con T l'intersezione di OR con PK. Il segmento TK risulterà essere la terza parte del segmento PK. Ora vado a tracciare la parallela al segmento AD passante per T, ossia questa retta. Indico con U l'intersezione di tale retta con la trisettrice di Ippia. Unisco infine A con U. Osservo che questo angolo, ossia l'angolo di A U risulterà essere la terza parte dell'angolo in A. In questo modo ho trisecato l'angolo.